Hello Guis! Bentornati su Liars of Fear 2 L'avevamo lasciato in questi lugubri Tunnel qui Quello era il coso Quella specie di bocca che ho messo sul manichino E altre robe Se guardo verso sinistra perchè sto guardando la La webcam cristal Questa registra molto bene, madonna Che succede? Ha salvato, fra poco dovrò correre, lo dico io Ma da quest'altezza non si sfonda alle ginocchia il bambino, poraccio Che succede? Mmm, è tutto chiuso di nuovo, quante cazzo di volta devo ripetere sta scena sinceramente, cioè Ma un po' sfrantegato Vabbè dalla casa uccide Madonna Non so se è il mostro di Home Sweet Home che è arrivato anche qui, non lo so Allora aspetta, avevo preso una chiave, no? Tu c'ha Mi sa che era di qui, no? Si Era di qui, però aspetta, prima di controllare Perchè ho letto che questo capitolo praticamente dura Mmm, c'è questo Oh, ero di coglioni, si accende sempre Questo Ma stavo raccogliendo quel coso Oh, guarda, ma poi perchè sono rinato qui in questo sgabuzzino di merda Ecco, adesso forse me lo fa raccogliere Ok Ok, per nulla praticamente Vaffanculo sto schifo Comunque vi stavo dicendo Praticamente questo capitolo di Laia e Sofia Il nuovo episodio di Laia e Sofia Dura cinque atti Noi siamo già al terzo Quindi c'è Purtroppo Questo si diventa troppo crue Siamo cercando un posto per sfruttare Eh, sì, ma La scura può essere molte cose Ma perchè non si inginocchia? Ah, giusto Devo operare il triangolo Madonna Sto già facendo confusire con i tasti Non so cosa ci sia lì Allora Allora Ehi, guvis Può essere un rifugio Può essere un rifugio Non so perché L'ho girata così La testa Ok, ci dobbiamo buttare lì dentro Aspetta, qua ce ne è lì Oh Ok 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 qualsiasi che lo faccia l'amore può essere un posto silenzio il silenzio può essere semplice oh jesus christ o puoi parlare volumi se lo facciamo l'amore può essere un posto silenzio comunque sto alternando un po' di let's play la mattina e altri la sera così almeno mi piace ogni tanto corro è da bravo eh devo consegnare questa testa al baule vai 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 posso chiedere? no non è ancora finita ca' troia è necessario farlo ripetere all'infinito mi ho sfrantegato la minchia penso che sia meglio è meglio scurire per lasciare l'amore scurire questa testa girata oh l'argo è venuto veloci veloci non Sì, per favore! Ho detto, iniziate! Inizio! Inizio! E' un po' di testa di manichino! C'è una collezione di testa di manichino! Wow! Devo scegliere quale mettere adesso! Devo scegliere quale mettere adesso! Oppure no! C'ca troia! Puttana tua mamma! Cazzo ti urli! Cazzo ti urli! Oh ecco! Questa terra è un merito per essere sicuro! Ma come avrei mai avuto? La casa? Ora, perché vuoi andare a un place così brutto? Ok, abbiamo fatto la collezione. Bene. Bene, benissimo. Hush, è già iniziato! Cosa è quella cosa? Ho pensato che lo sapevo ma... Ora non sono sicuro! Oh, Jimmy! Ha bisogno di prendere la forma in tua head prima! Altrimenti... ...eppure... 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 ...io... Ok, adesso è questa! Aspetta un attimo, però perchè... ... avevo controllato di sotto prima e c'era roba, ma magari c'è roba anche adesso! Dovevo chietà al volo! Ecco infatti Che è sta porcata Ok si Incazzatina Oh raga ogni volta Se ce n'è sta merda vai affanculo In realtà ne mancano altre di porte Sto atto durerò un po' Vediamo che c'è una cameretta Apri Questo è l'ora che tu vieni Tutto uno perché dovrò morire Questo non si apre Scusa no Ah no Dio mio Sto struando Perchè 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 guarda, questa è la parte migliore oh jesus, io scaricarò la colonna, sono una di sto gioco, mi piace un bot ok come, non possiamo restare più lì ufficio credo questa è la penultima camera, forse anche l'ultima non ne so sicuro ok che simpatico non si vede più ancora oh jesus, apriti comunque è diventato molto più narrativo che horror, potevano fare la via di mezzo giusta cazzo di narrazione ci sta però non ci stava sbarrato mi sembra che si possa usare la maniglia ufficio vediamo questo ok che bel quadro bel dipinto qua sto creando qualcosa non so cosa cosa c'è qui oh diapositiva raga top perfetto questa merdata non manca un pizzo eccolo immagino l'office non 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 ...non mi sento male... ...silente... ...smilendamente... ...loce un freddo... ...always là... ...ma mai non present... ...sometimes... ...when la scuola fell across la terra... ...we'd sneak out of the house... ...we'd look up into the night sky... ...watching the stars... ...ma mai non vedessi... ...what he really saw... ...was... ...a thousand souls on fire... ...his eyes would light up... ...the stars were already there... ...at that moment... ...I knew he had it in him... ...to make a thousand hearts bleed... ...a thousand heads turn... ...a thousand eyes weep... ...a thousand eyes weep... ...my brother... ...the silent dreamer... ...dreaming... ...that a day would come... ...when we could leave it all behind... ...the journey of a lifetime... ...a light on the horizon... ...a flame... ...to call his own... ...yes... ...he had it in him... ...to make a thousand souls burn... ...make them feel... ...alive... ...make them live forever... ...a thousand lives... ...but... ...never mind... ...never mind... ...never mind... ...there we were... ...dreaming ourselves away... ...into the night sky... ...when we could almost reach out and take it... ...a cruel shade eclipsed the sun... ...our dream... ...was gone... ...something else... ...took its place... ...something vicious... ...something... ...something... ...oh no... ...what were the Black Wonder... ...are now? ...quante altre porte... ...devo vedere... ...bagno... ...un day we'll get to see how it ends... ...dio mio... ...credo sia l'ultima porta del bagno... ...none che ce ne sono altre... ...ohhh... ...nanda naaa... ...nanda naaaa... ...naaa... 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 ...ciè di buona che lo devo ottenerlo per forza in mano... Lily? ...and e se qualcosa di burro si succede? ...and e se non ti trovo? Ssshhh... ascoltate la mia voce guardate profondamente dentro e io sempre sarò per te per sempre per sempre guarda se si accendono se giù guarda dici un'altra porta che da controlla devo per forza entrare? WTF come cambiano le cose che schifo che c'è qui che c'è? ci devo per forza a spiar uuuuh bastava semplice a sprecare devo fare qualcosa aspetta ok giusto puoi vedere? qui c'è un sole devo ricreare praticamente ehm forse devo levare le mani ah pensavo di essere morto stavo già in cacciano sono vieni la notte niente lo riuscite oh no c'è qui dici questa nota sentire il signore ti volete a rendere non riesce a prendermi lì e 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 lucia il primo ufficiale e e e e e e e e sono tutti arrotti non ho più paura di nulla ecco sono arrivati in bioshock mmm no 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 ma che te la prendere no stay out of it lily why can't you just just leave us alone mmm un'altro pezzo di búrbosta un'altro pezzo di búrbosta no ma questo che diavolo non occhio sia un прок, lindica cosa mi chiamando? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! Ma che dovrei fare? WTF Uh! Si sono sicuro, vi Non so dove andare, di qui Che piccolo cecco Ok Posta di qua Tutto inculato Stavolta lo seguo Vai Merdina Non so nemmeno che giro fa Stavolta Di poco Yes Ok La strada è giusta ma Ok Ok è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, giusto, giusto Ciao Vai 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 Non puro con la testa Fuck Fuck Ho pesce ovunque, si che bello Mi schiaffuno nel culo Madonna Che due balle Ah, ok, ha cambiato, no, è vero, non ha cambiato Aspettiamo, voglio vedere che giro fa sto stronzo Torna indietro Io lo seguo Io lo seguo Qui non si può passare Aspetta Così ce la faccio Credo Oh mia lorde, oh mia lorde, oh mia lorde Oh mia lorde C'è il tuo giorno E' oggi Lo so E' qui La vedo La guarda La guarda L'uomo Dicevo Che ho dato qualcosa per James? E' il suo giorno Io Ho dovuto Che Per la mia madre C'è tutto Quello che potevo permettermi Questo è quello che potevo permettermi Cioè, è morto anche il bambino, quindi? Che è quella roba? Numero 4 Lo ascoltiamo dopo Come dovrei stare a me? È... 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 Come... Non c'è nulla per noi qui È... 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 No, Mr Hardy È solo il comune Non c'è nessuna chiave, però Potrebbe essere la fine del livello, tanto Oh, forse no Porco giù Ah, ah, yes! Scusa la quarta Oh, forse no Dove ci svegliamo? La nostra cabina, no? Oh, mio Dio, com'è cambiata Oh, mio Dio Perco giù Il tuo microagent Oddio, dove c'è lì? Vediamo quali abbiamo preso What? Mi che ne mancano un botto ancora Così dove crepi Lascia sanguinare il cuore In questo è del consiglio Qualcuno può lavar l'erba Oh mio Dio Schifo Dovemmo ascoltare l'altro numero 4 Quattro Adesso voglio andare lì sopra però Perché Mi interessa Questo Vedete che ogni volta troviamo qualcosa Ecco Pirati? Magari ce n'è più di uno ma non credo Ce n'è sempre Ce n'è sempre solo uno Porca traia Che schifo Questa era una gialletta Non so se è cambiata Qui abbiamo preso questi tutti i poster in realtà Ce ne mancano pochi Il bagno cosa c'è adesso? Ah che bella Una bella piantina di marijuana Dio di Gesù Maria Dio mia Qui possiamo entrare Ok ragazzi Sapete che facciamo? Spesso con l'explay Ci vediamo alla prossima parte Capitolo 4 Penultimo capitolo Ciao a tutti Ciao a tutti